Ciao a tutti e benvenuti sul canale di Pietre. Oggi voglio fare un video un po' più discorsivo per parlare di attualità perché i mondiali ciclocross sono alle porte, saranno il 31 gennaio a Ostenda e l'attenzione in Italia è tutta rivolta verso Fabio Aru. Il Sardo ha disputato domenica scorsa i campionati italiani piazzandoci decimo, sta cercando di ritrovare la gamba e soprattutto la convinzione mentale in questo ambito del ciclocross, del fango dove lui è nato e cresciuto prima di spostarsi su strada ed avere tutto il successo che ha avuto nel quadriennio 2014-2017 prima di iniziare ad attraversare una profonda crisi esistenziale di risultati e tecnica. Aru è sicuramente uno dei ciclisti più chiacchierati negli ultimi anni, fin da quando mise a ferrefuoco il Giro d'Italia 2014, giovanissimo, arrivando poi secondo vincendo due tappe. Si confermò poi l'anno successivo vincendo la Vuelta in Spagna che rimane ad oggi il suo più grande traguardo. Sappiamo tutti come si è sviluppata la storia, Aru è esploso, giovanissimo, a sorpresa anche un pochino, ha scalato velocemente le gerarchie ed è diventato immediatamente un grosso fenomeno mediatico. In Italia si è guadagnato un grosso, grossissimo seguito di tifosi perché ovviamente era un ragazzo italiano giovane, fresco. Peraltro proveniente da un luogo dove il ciclismo solitamente non produce grandi campioni e quindi la regione Sardegna si è un po' attaccata al fenomeno Aru. Le bandiere dei quattro mori sono diventate uno dei simboli del Giro d'Italia di metà anni 2010. Poi però il rapidissimo declino che ha caratterizzato la sua carriera perché dopo due anni di grandissimi successi ha iniziato ad aprirsi le crepe nella sua mente. La firma del contratto quasi spaventoso che ha dovuto onorare negli ultimi anni con la UAE Emirates è stato forse più un fardello che un vantaggio per lo sviluppo della sua carriera. Gli ultimi squilli li ha avuti nel 2017 quando ha conquistato il campionato italiano su strada e la sua unica tappa al Tour de France con la splendida azione sulla Planche de Belfil, forse l'ultimo grande Fabio Aru che abbiamo potuto vedere su strada. E poi, come è successo a tanti ciclisti anche nel passato, un rapido declino. Proprio da quel Tour de France ha iniziato a mostrare grossi limiti di resistenza e anche pian piano di picco di prestazione, diventando presto da grande attaccante sfacciato con la faccia tosta, con le gambe giuste per mettere in crisi i migliori del mondo, un medium man, un faticatore che punta ai piazzamenti cercando di rimanere incollato al trenino dei migliori. Sinceramente non saprei dire se il punto più basso l'ha raggiunto alla vuelta dell'anno scorso quando ha mandato a quel paese in diretta tv mondiale le telecamere e sostanzialmente tutti gli spettatori mentre era staccato, oppure se l'ha avuta direttamente al Tour di quest'anno, quando si è staccato a 80 km dall'arrivo per poi ritirarsi anche lì con svariati gesti, di disappunto e la netta sensazione che col ciclismo, quantomeno con questo tipo di ciclismo, con tutte le attenzioni, le aspettative e gli occhi che ha puntati addosso, lui non ci voglia più minimamente avere a che fare. E allora arriva la svolta, perché quest'inverno scadeva il suo famoso contrattone da oltre 2 milioni di euro all'anno con la UAE che l'aveva ancorato a questa situazione dalla quale non riusciva a uscire e a Russia è dovuto completamente ricostruire sia come sportivo e quindi come lavoratore per quello che riguarda la sua carriera, sia come persona. Devo essere sincero, durante il 2020 ho pensato varie volte che la soluzione migliore per il suo proseguo di vita fosse il ritiro, appendere la bici al chiodo e smettere per almeno uno o due anni di pensare al ciclismo e di permettere al proprio cervello di collegare al ciclismo tutte le sensazioni negative che ha vissuto negli ultimi anni. È una soluzione che hanno adottato anche altri sportivi, mi viene in mente Lennar Kemna che pur giovanissimo si è voluto fermare perché la propria psiche non gli permetteva di reggere quei ritmi impossibili in un certo senso a cui sei sottoposto quando sei un'altreta professionista pagato tanto e con tantissimi occhi, mediatici addosso. Aro invece ha preferito continuare dritto, da buon testardo quale è ed è sempre stato, non ha smesso di credere di poter essere ancora un grande ciclista e ha cercato una squadra per l'anno prossimo il più prestigiosa possibile. Quindi i mesi di trattative che si sono svolti nell'autunno l'hanno visto rifiutare tutte le offerte di squadre continentali italiane come la Vini Zabu e la Bardiani CSF. Ha scelto invece la Cubeca Assos, nuova realtà nata dalle ceneri dell'NTT, ex MTN Cubeca eccetera eccetera, insomma la squadra di matrice sudafricana che negli ultimi anni è riuscita ad entrare nel circuito del World Tour, assicurandosi in questo modo di poter correre ancora le gare più prestigiose, particolarmente il Zero Italia a cui vorrebbe tornare in pompa magna, ma devo dire che a mio avviso Aro ha corso un po' troppo perché sicuramente ha abbassato le proprie aspettative e le aspettative delle persone intorno a lui, scegliendo una squadra di caratura più bassa di quello che poteva essere la Stana o la UAE, squadre che comunque molto difficilmente gli avrebbero offerto un'opportunità dopo l'ultimo paio d'anni nei quali si è mostrato, oltre che indietro in condizioni anche indisponente verso la squadra e verso i compagni e verso i propri impegni, addirittura ritirandosi appunto a un Tour de France quando poteva dare una grossa mano eventualmente a Tadej Pogacar che alla fine l'ha vinto anche senza il suo apporto, un aspetto che a mio avviso ancora una volta non aiuta le quotazioni di Aro mondiali perché anche questo si guarda quando si deve dare un contratto a un corridore, Aro invece ha dimostrato ancora una volta che vuole correre per se stesso e ha ancora ambizioni importanti. Sta facendo bene, sta sbagliando, ovviamente impossibile da dire, impossibile capire quello che c'è nella sua testa, quello che ho notato io sicuramente l'ultime settimane è che il movimento del ciclocross italiano è saltato sulla carovana Aro non appena ha sentito odore di un pochino di esposizione mediatica che solitamente è molto bassa per questa meravigliosa disciplina. E allora il CT italiano Fausto Scotti ha battuto duro fin da inizio dicembre per un'eventuale partecipazione di Aro ai mondiali di ciclocross, il Sardo classe 90 ha disputato alcune gare nell'ultime settimane nel circuito italiano di diversi livelli e con diversi risultati comunque tutti onorevoli, onesti, nessun podio ma svariate top 10 per poi conquistare questo decimo posto al campionato nazionale finto da Gioele Bertolini su Jacob Dorigoni nella rivincita dell'anno scorso. Questi due corridori sono sicuri del proprio posto ai mondiali di ciclocross, è iniziato in questi giorni il raduno a Ardea in provincia di Roma per preparare questo importantissimo appuntamento e la sorpresa di ieri è che dopo che la Kubeka aveva posto il veto sulla partecipazione di Aro a questi mondiali, anche perché il ciclocross chiaramente è una disciplina pericolosa a livello di cadute e di infortuni e Aro ha davanti tutta la stagione su strada con una squadra nuova nella quale peraltro deve dimostrare tantissimo, ma la sua volontà era quella di poter disputare questa manifestazione per rilanciarsi e per ritrovare le proprie sensazioni anche su un palcoscenico come quello mondiale. E allora il team manager Douglas Ryder, con una decisione a mio avviso molto oculata ed umana, ha concesso al corridore di unirsi al raduno e giocarsi le proprie carte per la convocazione ai mondiali, che se avverrà sarà sicuramente in parte mediatica, perché Aro difficilmente potrà fare il risultato in un contesto così probante, ma comunque è qualcosa che porta freschezza al movimento. Sicuramente porta più freschezza la sua convocazione, il fatto che si parli tanto del ciclocross rispetto ad alcuni articoli che sono usciti negli ultimi giorni dove si parlava dei compensi che ha ricevuto il sardo in queste poche gare ai ciclocross disputate. Poche decine di euro comparate ai milioni che prendeva prima, comparate con gli 8 mila euro al giorno che guadagnava prima, a mio avviso questi pezzi sono stati molto sensazionalisti, non hanno avuto tantissimo senso, perché sicuramente quello che cerca Aro in questo momento non sono i soldi, sono probabilmente ormai quasi più un problema che una benedizione per lui. Quello che cerca Aro in questo momento sono sensazioni prettamente umane, quelle che cerchiamo anche noi quando magari andiamo a farci il giro con la bici quando smette di fare troppo freddo e non vediamo l'ora di tornare a rilassarci e divertirci un pochino con noi stessi. Questo è quello che cercare in questo momento, a mio avviso parlare della busta da 35 euro che gli hanno dato dopo questa o quella gara è un po' assurdo, toglie legittimità a quello che sta cercando di fare a livello sportivo e umano e toglie tanta bellezza al discorso sportivo, toglie tanta passione che noi ci mettiamo nello seguire lo sport. Non mi interessa sapere quanti soldi ha preso Aro in questa gara se non nel denunciare quanto poco siano riconosciuti e sponsorizzati certi sport rispetto ad altri, questo è il discorso che andrebbe fatto sui giornali a mio avviso. Mentre vedo che la tendenza continua ad essere quella di sparare sulla croce rossa di Fabio Aro, che è un corridore che personalmente non ho mai tifato particolarmente, del quale non mi sono piaciuti gli atteggiamenti negli ultimi anni a mio avviso poco rispettosi verso lo sport stesso, ma rimane un essere umano a cui va dovuto il massimo rispetto per le proprie scelte, quantomeno finché non dannezzano qualcun altro. Quindi il mio messaggio finale è lasciamo in pace questo ragazzo. Aro vorrebbe ricominciare ad essere trattato come una persona normale, un atleta normale che cerca di fare le proprie prestazioni e di fare il meglio, non come colui che ha vinto la Volta in Spagna, colui che guadagnava x milioni di euro. Se riuscissimo a fare questo faremo un favore sia a lui che a noi. Con questo vi do appuntamento ai prossimi video e al Mondiale di Ostenda, al quale vedremo se parteciperà Fabio Aru e vedremo tutti insieme, ma speranzosamente con calma e senza esagerare le situazioni, quale sarà il destino di questo campione tormentato.